In ogni persona che ho incontrato, ho trovato qualcosa di speciale, irripetibile. In Jeanne, la capacità di superare gli ostacoli. I Lynette, la leggerezza di vivere sempre con gioia. In Alexandra, la curiosità è quel pizzico di follia. I melodi, la semplicità e la voglia di lottare. I momenti che ho trascorso con loro, mi rimarranno per sempre. Grazie. 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 Grazie.